L'ASL Salerno è impegnata quotidianamente nella lotta contro il cancro attraverso il coinvolgimento delle proprie strutture ospedaliere e territoriali che si occupano di prevenzione, di agnosi e cura delle patologie tumorali. L'8 marzo, nella giornata internazionale dedicata alle donne, parte la campagna di screening gratuito per le patologie oncologiche della cervice uterina, mammella e colon retto con i relativi test. Si tratta della mammografia, del pap test e del kit per l'individuazione di sangue occulto nelle feci. Il vice sindaco di Agropoli, Elvira Serra, per festeggiare la festa delle donne si è recata presso l'ospedale di Agropoli per effettuare il test. Festeggiare la festa delle donne, per chi la vuole festeggiare? Perché certo è una giornata che ricorda cose positive e cose negative, però la cosa importante per tutte le donne è volersi bene. Preveniamo il tumore alla mammella e facciamo prevenzione. Questo è il miglior modo di manifestare il nostro essere donna. Vi abbraccio e vi aspettiamo tutti quanti qui per lo screening gratuito per il tumore alla mammella. Grazie. Oltre alla possibilità di effettuare i test nei presidi ospedalieri, partirà un tour da Salerno già da oggi 8 marzo in piazza Casalbore per poi proseguire il 16 marzo in piazza della Repubblica ad Eboli, il 17 marzo in piazza 20 Settembre a Roccadaspide, il 18 marzo in piazza Vittorio Veneto ad Agropoli e il 19 marzo in piazza Vittorio Emanuele a Vallo della Lucania. Il tour arriverà anche nel Cilento e Vallo di Diano e precisamente il 20 a Palinuro in piazza San Nicola ad Amira, il 21 marzo a Sapri in piazza Plebiscito e il 22 marzo in piazza Forte a Polla. Obiettivo dell'ASL è far aderire agli screening limitando i danni di un tumore.